Una disciplina scientifica dura in questo progetto, che cosa apporta, qual è il suo contributo? Allora, io sono un'ingegnere civile ambientale, insegno al Dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari e Ambientali dell'Università di Perugia e insegno analisi e pianificazioni territoriali. Dunque la mia disciplina in realtà si è sempre confrontata con la scienza della complessità perché proprio il mio ruolo è quello di cercare di mettere insieme le conoscenze settoriali e di leggere le loro relazioni. Perciò ho accettato con grande gioia l'invito che ci è venuto da Pierluigi, il coordinatore di questo progetto di Cosi Thinking, ad avviare un dialogo con discipline così diverse, a diverse scale, dalla micro alla macro e con tagli diversi. Nell'arco di questi anni siamo riusciti, penso, ognuno ha lavorato nel suo settore con un approccio riduzionistico, ma in qualche modo stiamo cominciando ad andare verso una transdisciplinarietà, dunque siamo riusciti a confrontarci e a costruire come un minimo un vocabolario comune che è il primo passo.